buongiorno grazie per la presentazione mi dispiace moltissimo non essere con voi oggi ma un incredibile incidente mi ha danneggiato in modo serio la gamba sinistra avrei voluto essere presente soprattutto per salutare il presidente del nostro gruppo il presidente dell'accademia dei lincei antonelli la dottoressa maria cristina messa ministro delle ricerche dell'università e poi tutti i colleghi del gruppo 2003 a cominciare dall'amico giorgio parisi al quale rinnovo le mie congratulazioni e anche tutti gli altri componenti del gruppo 2003 vecchi diciamo e noi come sapete mi è stato conferito questo premio unesco mendeleev che è stato assegnato per la prima volta lo scorso anno appunto a me ma è stato istituito nel 2019 in occasione dell'anniversario 150 anni della creazione della tavola periodica degli elementi che oggi è un esistente riconosciuto come una delle più brillanti idee nella storia della scienza oggi se uno va in un'altra universitaria trovi in genere questa tavola periodica fatta così ma ce ne sono anche molte altre versioni più recentemente qualcuno ha lanciato quest'altro tipo di tavola periodica che ha il vantaggio di fare vedere così approssimativamente quali sono gli elementi abbondanti e quali sono quelli più scarsi e questo più importante perché ad esempio non so oggigiorno un elemento molto importante per le auto elettriche e il litio ma litio come vedete come piccolino come scarso invece di sodio ce n'è tanto non sappiamo cosa farci neanche quindi qui c'è questo problema che l'abbondanza relativa degli elementi e quella che è io non posso pretendere che la terra abbia cose diverse da queste mostrate mostrate qui a questi elementi in questa abbondanza relativa quindi la terra è il nostro limite per tutto quello che vogliamo fare perché la terra ci offre queste risorse ecco ci sarebbero importanti discorsi da fare appunto su questa abbondanza relativa degli elementi sull'energia eccetera ma non c'è tempo e quindi passo subito a parlare della foto chimica la foto chimica delle molecole foto chimica molecolare quando io ho una molecola che si trova nel suo stato normale chiamato stato fondamentale e la radio con dei fotoni di adatta energia ecco si forma un cosiddetto stato elettronico eccitato questi stati elettronico eccitati sono specie transienti a corta vita perché possono dare diversi modi di disattivazione possono reagire per dare una reazione chimica oppure possono mettere luce per dare luminescenza appunto oppure lo stato eccitato può disattivarsi diciamo trasformando con una transizione non radiativa in cui l'energia elettronica viene convertita in calore oppure se tutti questi processi sono lenti succede che il tempo di vita dello stato eccitato è lungo allora lo stato eccitato può andare in giri in soluzione e incontrare qualche altra specie con cui dare processi di trasferimento di energia o di trasferimento di elettroni ecco questo trasferimento di elettroni è particolarmente importante perché gli stati eccitati hanno una forte tendenza a dare trasferimento di elettroni infatti se guardiamo in un diagramma d'orbitali passare dallo stato fondamentale della molecola allo stato eccitato significa promuovere un elettrone da questo livello più basso a questo più alto ma questo qui scombina tutto nel senso che allora il potenziale di ionizzazione dello stato eccitato è molto più piccolo dello stato del potenziale di ionizzazione del stato fondamentale l'altra parte l'energia elettro e l'affinità elettronica diventa più grande quindi in conclusione lo state citato ha un più basso potenziale di ionizzazione una più alta finità elettronica quindi è sia un miglior riducente che un miglior ossidante dello stato fondamentale e questo importante perché significa allora che la foto chimica è come fosse una nuova dimensione della chimica bene il protagonista di quanto vado a dire di queste macchine molecolari di cui parlerò uno dei protagonisti è questa molecola un po strana magari non l'avete mai vista naturalmente questo composto del dell'elemento rutenio l'elemento rutenio qui è circondato da tre molecole di di piridile si chiamano così quindi la formula totale di questa molecola è questa e ha una carica positiva e questa molecola vedremo che è la molecola ideale per processare la luce anche di elettroni andiamo infatti a vedere le sue proprietà intanto la molecola è stabile in tutte le condizioni è stabile cioè questi gruppi che si chiamano leganti se ne stanno sempre lì attorno anche se la metti d'acqua non è che si che la molecola si decompone questa molecola ha un forte spettro d'assorbimento nel visibile in particolare anche nella zona dell'energia solare questo tornerà utile in qualche modo poi questa molecola quando è citata emette luminescenza e quando voglio posso anche a fare questo gioco la prendo la ossido oppure la prendo e la riduco quindi in conclusione questa molecola si presenta si può presentare in quattro forme diverse cioè in questa forma che lo stato fondamentale poi nello stato eccitato ottenuto per assorbimento di luce e lo stato eccitato più interessante quello più basso perché ha detto più lungo per tante regioni poi la molecola può esistere nella sua forma ossidata e nella sua forma ridotta quindi io in questa molecola ho quattro diciamo forme che in qualche modo si possono convertire una nell'altra con segnali luminosi o elettrici e questo permetterà di utilizzarla per tanti motivi ora è anche necessario se vogliamo parlare di macchine molecolari fare un'altra piccola premessa come sapete negli ultimi anni c'è stato una corsa verso la miniaturizzazione di tutte le apparecchiature cioè passare diciamo dal macroscopico ai micron ecco e feyman che appunto senza te che tutti conoscono è detto che questo processo di miniaturizzazione interessante perché a lui ha detto c'è un sacco di posto in basso cioè si un miniaturizzo tante possibilità nuove allora si potrebbe anche pensare di passare dai micron ai nano ma passare diciamo ai nanometri che potrebbero offrire tante altre possibilità è difficile dal punto di vista dei fisici che i fisici applicano questo procedimento diciamo dall'alto prendono materiali macroscopici li riducono in dimensione ma questo ultimo passo più difficile invece è più facile questo passo per i chimici perché i chimici possono partire dalle molecole le molecole sono già oggi oggetti che hanno dimensioni di nanometri quindi i chimici possono prendere delle molecole metterle assieme e costruire delle nano strutture che possono avere delle funzioni interessanti ecco questo questa possibilità dell'approccio dal basso ha spinto i chimici un po alla volta a lavorare come gli ingegneri come fanno gli ingegneri a lavorare se devono fare un qualcosa di utile come appunto una prega di questo tipo come fa prima preparano dei componenti un ventilatore una resistenza una spina eccetera componenti macroscopici che poi assemblano e danno costruiscono questo oggetto che naturalmente ha delle funzioni che simboli i singoli componenti non possono avere quindi questa è una cosa interessante i chimici ormai possono fare la stessa cosa cioè possono prendere delle molecole dei componenti molecolari c'è scuola di quale avrà certe proprietà come queste qui che hanno certe proprietà e quindi mettendo assieme delle molecole che hanno proprietà diverse possono fare un qualcosa di più complesso che può svolgere una funzione più pregiata ecco cosa sono quindi i device le macchine molecolari sono diciamo di fare come gli ingegneri ma con le molecole che la cosa complicata perché naturalmente le molecole sono molto piccole eccetera allora questo ha portato un volta i chimici a studiare non solo le singole molecole ma anche molecole assemblate cioè c'è stato un passaggio negli anni recenti appunto dalla chimica alla cosiddetta chimica supramolecolare chimica supramolecolare che cosa vuol dire vuol dire prima preparare delle molecole che hanno proprietà opportune dal punto di vista chimico fotochimico ossido riduttivo dopodiché queste molecole assemblarle se uno è bravo le fa in modo che si assemblano da soli un'altra volta sarà necessario invece legarle e vengono così a formarsi questi sistemi supramolecolari che proprio perché possono combinare le proprietà dei vari componenti possono svolgere delle funzioni specifiche più interessanti ora questa chimica supramolecolare si può anche chiamare nanotecnologia perché si tratta di mettere insieme a livello nanometrico dei componenti per fare qualcosa di utile oppure si può chiamare anche ingegneria a livello molecolare perché come ho detto prima si tratta con un disegno in testa di fare un qualche cosa partendo dalle molecole ecco tutte queste diciamo applicazioni sono descritti questo nostro libro anche in altri che come vedete come vedete è stato anche tradotto in cinese sono per dire che la cosa è interessante ormai in tutto il mondo questo questo concetto della chimica supramolecolare dell'applicazione ecco allora a questo punto non mi rimane che passare a far vedere qualche esempio e incomincio con questo caso semplicissimo vedete queste qui sono due complessi uno di rutenio e uno di osmio e sono legati fra loro da un filo un filo di anelli benzenici che lungo 4,2 nanometri siamo nel campo di nanometri ora cosa accade in questo sistema è supramolecolare che se io mando luce cioè faccio assorbire luce a questo componente poi vedo che esce luce da quest'altro di una lunghezza d'altro un po' diversa quindi vuol dire che questo filo in qualche modo conduce per così dire la luce cioè in qualche modo è un filo molecolare fotonico per la luce ed è basato su questo concetto che adesso non sto a discutere bene allora passare un altro esempio questo è un dendrimero un dendrimero è un grossi insieme di molecole vedete sono 43 componenti molecolari messi assieme con uno scopo ben specifico che è questo se io lo costruisco per bene come questo è tanto fatto allora quando mando luce sui componenti più esterni e anche su quelli intermedi loro assorbono luce assorbono luce ultravioletta ma tutta l'energia poi passa all'elemento centrale c'è un trasferimento di energia appunto per cui quando in ultimo è come che tutto l'energia fosse arrivata qui infatti questo qui a questo punto emette luce se vogliamo in ogni caso noi abbiamo fatto questi questi sistemi con uno scopo raccogliere la luce cioè fare delle specie di antenne per raccogliere la luce cosa interessante per esempio per la foto che per la foto silvice artificiale abbiamo fatto molti altri piccoli apparecchi più o meno ecco questo qui per esempio è un congegno molto comune nella diciamo nella vita di tutti i giorni no una spina e una presa bene allora noi abbiamo provato a fare una spina e una presa nanometrica cioè sempre con le molecole abbiamo preso una molecola che ha una grossa cavità e che quindi fa da 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 presa e questa molecola invece che la possibilità di far da spina però il problema è come facciamo assemblarle disassemblare qui uno ci va con la mano attacca e stacca e noi lo possiamo fare chimicamente mediante degli input chimici per esempio ecco se noi aggiungiamo a una soluzione che contiene questi due composti aggiungiamo un acido l'acido protona questo azoto quindi qui diventa nh2 e questo qui quando è protonato tende a entrare entra entra in questo anello a questo punto come faccio a capire se è entrato non è entrato beh ho dei mezzi spettroscopici perché vedete se sono separati se lo mando luce su questo la luce se la tiene lui la mette lui ma invece se sono collegati quando mando luce su questo componente che sarebbe questo io trovo che la luce vede fuori da quest'altro quindi evidentemente sono sono legati fra loro e c'è anche un modo per slegarli per separare devo sempre da devo semplicemente dare un input chimico opposto a quello che li ha legati quindi questo diciamo è un sistema spina presa a livello molecolare si può fare di più ma naturalmente come spesso ci si sbaglia no nella vita di tutti i giorni si prende una spina che non è adatta con la presa quindi non c'è niente da fare anche noi chimicamente delle volte sbagliamo cioè se noi avessimo preso al posto di questo di questo sistema qui che qui è un gruppo piccolo ch3 avessimo metto un gruppo fenile e non entrava una spina sbagliata adesso vediamo questo sistema un po più complicato macroscopico un pannello fotovoltaico poi qui una presa poi qui una spina e una presa e qui un'altra un'altra spina che dove verrà consumata l'energia vediamo intanto questo notiamo che è una prolunga è quella che noi definiamo prolunga è una prolunga però nel campo macroscopico sono tutti oggetti macroscopici proviamo adesso andare a livello delle molecole nanometrico allora ci siamo costruiti un composto fatto così dove qui c'è quella famosa molecola vista prima che ha una proprietà quando riceve luce può mandarvi un elettrone vediamo tiriamolo lì questa parte qui è un anello che può fungere da presa qua abbiamo preso come diciamo contro lunga questi due pezzi qui qui può fungere da spina e qua può fungere da presa per quest'altro ultimo elemento a questo punto bisogna però collegarli se vogliamo far passare qualche cosa da qua fino qua per collegarli naturalmente dobbiamo operare chimicamente quindi dobbiamo appunto tenere presente che qui si può fare una connessione chiamata legame idrogeno come hai visto prima perché l'h2 più si infila qui dentro insomma qua invece questi due si possono associare perché questo è un elettrondonatore questo è un elettrondonacettore quando li mettiamo in soluzione effetti si associano quando mettiamo in soluzione si ottiene sia questa che quella connessione e quindi si forma una cosa unica è che questa cosa unica altrimenti succede che se adesso mando luce su questa su quello che il pannello fotovoltaico qua nel mondo macroscopico questa molecola sappiamo che manda lì un elettrone quando riceve luce e dove la manda l'elettrone la manda allunga il filo finché va nel posto più comodo il posto più comodo è questo elettron drain quindi qui succede che mandando luce sposto un elettrone lungo questo filo vediamo una cosa più complicata abbiamo fatto un sistema già supramolecolare vedete fatto da tante cose che ha tre rami tre rami identici vedete e ciascuno di questi rami ci sono due gruppi caratteristici c'è questo gruppo neanche due già visto e quest'altro che è un elettrone acettore lo stesso su questo gruppo su questo ramo e su questo ramo poi abbiamo fatto un sistema di questo genere cioè tre diciamo anelli connessi fra loro identici e qui sono tutti gruppi che chimicamente sono elettron donatori allora succede che se io metto in soluzione questa roba qui con questa qui si assemblano spontaneamente spontaneamente perché appunto questi qui vuole andare qui dentro solo che qui ci sono troppe possibilità gli anelli su chi stanno su questo su questi restano sul posto diciamo più comodo più affine che è quello di sopra quindi gli anelli stanno attorno a questi gruppi di H2 qua in fondo si mettono dei gruppi grossi perché non si sfidi più una volta infilato e otteniamo una molecola così che sembra un po' confusa in effetti è questo però è il modello molecolare reale cioè qui ci sono dei campi dei nanometri vedete è fatto così questo qui sono gli anelli perché qui sono i fili che possiamo schematizzarlo per capirlo bene anche fatto così è fatto così quindi abbiamo questi tre anelli che se ne stanno diciamo nella parte superiore dei tre fili così allora cosa succede che io chimicamente posso intervenire posso togliere questi H più se tolgo questi H più allora succede che gli anelli non vogliono più stare qui che non è più una posizione diciamo utile ma sendono giù quindi aggiungendo una base che toglie di H più noi possiamo abbassare per così dire questa piattaforma ecco questo sistema potrebbe essere così a prima vista definito possiamo naturalmente anche tornare indietro base acido definito dicevo come un sensore molecolare in realtà se uno va a vedere va a vedere perché si può studiare come funziona se va a vedere come funziona si vede che non è proprio da sensore perché naturalmente i tre input diciamo della base arrivano separatamente quindi prima uno poi l'altro poi l'altro quindi lui va giù non pari ma vedete con un movimento un po strano quindi più che un sensore uno potrebbe dire che infatti lo abbiamo chiamato così è come un ragno un ragno nanometrico insomma insomma qualsiasi cosa sia rimane il fatto però e questo è importante che per compiere questi movimenti molecolari io devo intervenire aggiungendo acidi o base ossidanti o riducenti cioè devo intervenire aggiungendo della roba quando aggiungo della roba sporco per così dire il sistema il sistema dopo c'è altre cose e quindi non si può andare molto avanti dopo un po non funzionerebbe più insomma e quindi questo tutti questi sistemi che sono diciamo così azionati mediante energia chimica inevitabilmente portano alla formazione di rifiuti che possono intervenire allora noi per la nostra esperienza di fotochimica abbiamo pensato di fare qualcosa altro intanto vi faccio vedere questi sistemi chiamati rotassani dove non posso fare anche macroscopico naturalmente una cosa così ma diciamo chemicamente parlando io posso fare un sistema di questo tipo dove qui ho due componenti che hanno proprietà diverse esemplificate dal blu e dalla rosa no e questo qui è uno di quelli soliti anelli l'anello è un elettron donatore invece questi qui sono due elettron accettori allora l'anello che si infila di questo filo e starà più comodo dove interagisce di più e quindi sta sulla stazione più forte o se volete a stato dalle elettroni accettori più forte naturalmente io posso anche dopo che ho affidato l'anello a mettere due grossi grossi gruppi qui per cui l'anello quando non va più bene non gli va più bene sta qui non può uscire allora passa di qua e quindi succede che io posso muovere stanello lungo questo filo la cosa può sembrare banale però questa è la logica binaria allora posso fare questi movimenti aggiungendo per esempio un acido una base come ho fatto prima sposto l'anello poi lo posso far tornare dietro però è questa faccenda qui rimane che io ho forza di aggiungere acido base il sistema si sporta allora noi abbiamo pensato perché non proviamo a trovare un sistema dove l'anello si può muovere senza input chimici bensì semplicemente semplicemente utilizzando la luce utilizzando la luce far andare avanti indietro è un problema complicato perché io che io mi studi bene come fatto l'anello come sono fatte le stazioni eccetera allora ci abbiamo pensato moltissimo naturalmente e un po alla volta abbiamo creato questo sistema che è un sistema supramolecolare composto da tanti componenti e adesso appunto poi vediamo lungo 6 nanometri quindi siamo sempre nel campo delle nanometri allora come componenti c'è un foto sensibilizzatore sarà il motore del sistema vediamo uno spaziatore due elettroni accettori diversi e poi dopo un gruppo grosso per impedire che si sfida e l'anello che è un elettron donatore questi elettroni accettori quindi l'anello tende a stare su di questi due su quale su quello dove sta meglio su quello che più elettroni accettori inizialmente lo resta qui quindi il sistema è fatto così il sistema è fatto così allora io adesso vorrei mediante la luce portare stranello da questa parte e poi magari tornare indietro ecco allora mando la luce che anche luce solare questo complesso assorbe anche luce solare arriva un fotone sposto un elettrone l'elettrone va a lungo al filo e va a cercare il posto più comodo che è questo perché è il migliore elettrono accettore ma quando l'elettrone arriva qui lui non è più un elettrono accettore perché ha ricevuto l'elettrone allora l'anello non è contento di stare qui e quindi l'anello si muove ma appena l'anello è nato lì succede che l'elettrone che era qua torna indietro qua allora l'anello e torna in questo qua perché diventa ancora la stazione più conveniente quindi sostanzialmente si può fare andare avanti indietro un anello semplicemente mandando un fotone ecco allora questo qui è in qualche modo un motore molecolare artificiale perché non c'è in natura che funziona con la luce solare allora vediamo appunto adesso uno schema che mostri come funziona questo qui è la molecola che abbiamo visto poco fa no nella sua complicazione abbiamo fatto uno schermino abbiamo fatto un video per cercare di capì far capire cosa succede allora questo qui è il fotone che viene dal sole bene quando il fotone che viene dal sole colpisce questa molecola lei manda via un elettrone che va a finire qui l'anello non è contento si sposta ma l'elettrone sono indietro all'altro indietro allora capite quanto il sistema fra l'altro lo posso anche rifare se volete nel senso che questo è il fotone che arriva quando questa è citata manda un elettrone che va a finire qui l'elettrone va a finire qui ma l'anello non ci sta perché non è più il miglior rete nel settore si sposta ma in un tempo breve siamo nei nei fra i nano i microsecondi torna indietro l'elettrone allora l'anello torna indietro quindi abbiamo un sistema qui in poche parole appunto abbiamo già visto un motore molecolare artificiale che funziona con la luce perché quindi qui c'è conversione di luce solare anche in energie meccaniche e quindi è una cosa interessante infatti è interessato moltissimo diciamo tutta l'entruttura scientifica che hanno evidenziato appunto questo questo qui comunque risultato interessante allora torno un attimo al libro che riporta tutte queste cose tra l'altro e abbiamo scritto sto libro di scrivere questo libro è successo una cosa strana che nei primi 16 capitoli abbiamo descritto tutte le questioni tecniche e chimiche eccetera fisica legate a queste macchine molecolari poi ci è venuto in mente di scrivere un dicesettesimo capitolo che in qualche modo nei libri non c'è per un libro è un capitolo un po strano un capitolo che vuole diciamo cercare di capire cos'è che stanno facendo con queste macchine molecolari con questa scienza allora appunto abbiamo discusso in questo capitolo il ruolo della scienza nei nostri tempi e per esempio partendo da questo libro abbiamo scritto questo libro ha a che fare con la scienza principalmente con la scienza di base quindi potrebbe qualcuno potrà dire dovrebbe 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 finire col precedente capitolo ma oggi può la scienza essere trattata come un tema separato neutrale assettico può l'essenziati ignorare i problemi della società umana e isolarsi in una torre d'avorio noi pensavo di no pensavo allora che questo libro sia un che ci sia bisogno di dibattito sul ruolo della scienza e degli essenziati nella società e che un libro scientifico offre deve offrirgli un'opportunità che non può essere trascurata per discutere di questo problema naturalmente abbiamo dopo in questo capitolo abbiamo esaminato vari problemi il mondo che è fragile lo sviluppo insostenibile il mondo disuguale il ruolo degli essenziati e insomma abbiamo concluso che gli essenziati naturalmente hanno una grande responsabilità sociale e che naturalmente devono stare molto a tempi perché l'assenza della tecnologia si è usati ma lo sappiamo tutto per la pace non per la guerra per preservare il pianeta in cui viviamo e non per distruggerlo per ridurre non per aumentare le disuguaglianze e per alleviare la povertà non mantenere per il genere sì lo so sono cose che tutti sappiamo ma ne discutiamo abbastanza quei nostri studenti e quei cittadini che sospettano dei licenziati sono un pochettino di cose interessanti anche con questo praticamente ho finito volevo solo mostrare l'idea di cosa vuol dire un lavoro di come di quest'altro che un bel lavoro di gruppo come dice qua e allora approfitto appunto di questa bella figura e modificandola perché ho voluto ricordare che il lavoro di cui ho parlato oggi è frutto di tante persone studenti collaboratori nazionali e internazionali quindi ci sono un sacco di di persone a ringraziare vedete e naturalmente anche voi per avermi ascoltato grazie grazie in 5 in Grazie.